Il nostro è uno spettacolo itinerante, noi suoniamo camminando, accompagniamo il corteo nella più pura tradizione brasiliana, musica samba fatta apposta per camminare e per fare le parate Quanti siete? Oggi siamo una ventina più o meno Da dove venite? Dalla Spezia, siamo vicini di casa Noi abbiamo portato un caro che utilizziamo anche per altri scopi, cioè ci serve per la festa del Madonna del Carmine Noi siamo della confrartenza di Montevierfo, perciò questo caro qui ha diversi utilizzi Tra cui quest'anno anche quello di partecipare al caro seso di Chiavari Siamo il gruppo Amici di San Pietro Un gruppo che si è formato già da tanto tempo e ci tiene ad essere unito e a partecipare alle varie manifestazioni È un carro molto bello, rappresenta le emozioni di Inside Out Dove siete? Siamo di San Pier di Canne, anche quello È una giornata super riuscita, è il secondo anno che facciamo il Carnevale, è pieno di bambini e di famiglie La passeggiata è stracolma di gente Il tempo sicuramente ci ha aiutato perché è una giornata di sole meravigliosa Speriamo che c'è un evento sempre crescendo Ringraziamo tutti per la partecipazione Ringraziamo tutti per la partecipazione Ringraziamo tutti per la partecipazione